Potreste lasciare a 1% di popolo tutta ricchezza di nazione. Potreste fare i vostri amici ricchi più ricchi tagliando loro tasse e pagando causione quando perdono il gioco. Potreste ignorare esigenze di poveri come salute e istruzione. Vostri media sembrerebbero liberi, ma segretamente controllati da una persona e da sua famiglia. Potreste intercettare telefoni. Potreste torturare stranieri prigionieri. Potreste avere lezioni truccate. Potreste mentire su perché vai a fare guerra. Potreste riempire le prigioni con un gruppo razziale di un certo tipo. E nessuno protesterebbe. Potreste usare i media per spaventare il popolo in modo che appoggi politica che va contro loro stessi interessi. Lo so che è difficile per voi americani da immaginare. Ma provateci, dai. Vi dico io che cos'è democrazia. Democrazia è la cosa peggiore. Tutti parlano e ascoltano qualunque stupita opinione. E conta il voto proprio di tutti. Pure se invalido, nero o femmina anche. Democrazia!